Sindaco Agnelli, la collaborazione con il Museo degli Uffizi per gli Uffizi diffusi ha dato un grande successo per Castiglion Fiorentino perché molti sono stati coloro che hanno visitato e osservato l'opera che avete prestato. Questo che cosa significa per voi? Ecco, sicuramente significa aver usufruito di una vetrina mondiale, quella della Galleria degli Uffizi di Firenze che risulta il luogo culturale largamente più visitato in Italia nel 2021 con milioni di visitatori, 1,7 mi pare ha consentito a Castiglion Fiorentino di fare una bella mostra di quella che è un po' l'opera simbolo del nostro sistema museale il Bartolomeo della Gatta che ha avuto nel periodo di ottobre, novembre, dicembre, gennaio 2022 oltre 400 mila visitatori, numeri irraggiungibili ovviamente per un sistema museale, un comune piccolo come quello di Castiglion Fiorentino, quindi direi un'ottima vetrina, uno spot eccezionale per il nostro paese.